Salve a tutti, ok, sennò peggio dei baci, mi raccomando, inizia. Mh, mh, perché non ti capisci, ah, mh, mi dico, ah, mamma mia, poi volevo dire Buon Natale, e non ha niente. Ma lo dai, mazzolino. Ma che fai? Ti ho bisogno che mi devi lanciare il giornale, Dani, non mi dico quanto, perché è fatta una permanente, non ti ho bisogno che mi lanci il giornale. Tieni, tieni. Mamma mia, che presuntuosa. Mamma mia, fiavissima, mamma mia, devo fare i capelli corti. Però guarda, ho cambiato il lucro, hai visto? Mazzolino amora, guarda. Ehm, come possiamo dire? Ecco, c'è da Peppa Pig. Vabbè, io scopaccia per Peppa Pig, per Briga, per tutti quanti. Ah, aspetta, aspetta. Eee, volevo. Allora, madonna, io voglio permettare questa. E, sostanzialmente questa, non ti ho avuto niente, perché io voglio questa qui, dove c'è il telefono, questa qua da qua. Tu lo sai, Dani. Ma no, devi essere sincera, perché mi ti ho fatta la permanente. Spero tanto a questo video vi sia piaciuto. E, sì, mi sono tagliato i nuovi capelli, mi sono lasciato qua nei lati, questo nei lati, questo qua mi sto crescendo, come bello, è schiosimo tantissimo. Comunque, commentate qua sotto il prossimo video che devo fare, però lo posterò il prossimo, perché prima dovevo fare la parodia, la paridiosa di tutti, mi stanno facendo tutti quanti. Ho fatto questo video come non ho fatto tutti quanti in breve, tra loro, tra sé. Io ancora devo scegliere il titolo, sì, non so che titolo dovrò mettere in questo video che ho fatto. Comunque, spero che vi piacerà, lasciate un bel pollio.